Bene gente, allora sono ufficialmente le 5 e mezza e mezzo e sto facendo un vlog come vedete nella ripresa perché oggi, cioè stasera, andrò a vedere con la Giulia, la Gloria e la Jessica, sempre loro, la bella e la bestia però adesso, cioè tipo verso le 7, ho un evento in centro quindi vi porterò come anche là che poi è dentro una libreria, tipo cose strane che fanno Padova, ecco e quindi ho deciso di fare un vlog e se vedete questa pettina è una strana perché ho fatto un outfit molto tall perché adesso vi farò vedere e quindi ho deciso ovviamente di fare un vlog perché non potevo non vloggare ho trovato una bella da bestia, cioè soprattutto per quello, poi l'evento è una cosa in più Bene, dicevo, sono le 6 e mezza, come vi ho arrivato a Jessica Ciao Non si vede ma va bene Comunque, adesso stiamo andando in quel famoso evento, famoso insomma, quell'evento che vi ho detto sembra che non ho i capelli L'olio Pallata Esatto Belle luci dell'autobus che mi fanno rossa Siamo in discoteca Sì, proprio, in macchina Quindi appena arriviamo, boh, cercherò di farvi vedere un po' com'è la situation perché è un po' strana la faccenda Qui dovete vedere i capelli che si è fatta, quindi se arriveremo in un posto con la luce la inquadrerò in qualche modo E niente, quindi vedo di arrivare, cioè vediamo di arrivare a trovare parcheggio e di andare in questa cavolo di libreria E non si vede, non si vede, non si vede, non si vede Non si vede, non si vede, non si vede Non si vede, non si vede, non si vede Ah, a me hanno detto che è figo, poi va bene, a me non fa Ma va a gusti, va a signa Quindi il cinema quando andiamo la sigliamo, la sigliamo, la sigla, la sigla, la sigla, la sigla La sigla, 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 la sigla Oh, guarda, non ho più gli occhi Bellissimo, va, è un crampo Perché sono una, la sigla, la sigla Vedete anche il cinema, vedete che la 10 Se lo facciano i fatti loro Vabbè, comunque, la sigla è sopra e in alto L'ultima fila L'averevamo per città di carta E' destino Non era a fa Una volta ci hanno messo nella perl'ultima fila Ci ha spiegato Conferno E' sempre così Beh, è un po' di registrazione dei corsi E' curiosissimo che ci stiamo in un'altra visione Perché con solito dovrò avere le gare E adesso mangio Esatto E' un po' di registrazione dei corsi 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 E' un po' di registrazione dei corsi